Come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. Forse, diciamo forse, deve essere andata più o meno così, come racconta in una delle sue canzoni più popolari Ivano Fossati. Deve essere andata per forza così sul tema multiproprietà. Erano tutti alla stazione, ma nessuno era sveglio. I padroni del vapore erano tutti ai loro posti, ma con la testa fra le nuvole o forse semplicemente girata dall'altra parte, intenti a curarsi di altri aspetti. Ora che tutti dicono che la multiproprietà è un problema, anzi che tutti dicono di averlo sostenuto per primi, magari anche secoli fa, l'ultimo, in ordine di tempo, è stato il presidente della Lega B, Mauro Balata. Ora insomma che tutti sono d'accordo, la domanda è semplice. Ora che si fa? Che si fa con quelli che da anni denunciavano il problema e che venivano presi per pazzi e per gufi, capaci solo di vedere il marcio, di crearsi problemi inesistenti o che comunque sarebbero prima o poi dovuti presentare e semmai affrontare, forse con calma risolvere. E soprattutto, che cosa si fa con la serenitana che dopo cinque anni di anonimato, ha varcato le colonne d'Ercole approdando in Serie A senza chiedere il permesso a nessuno? La domanda se sarà posta anche Claudio Lotito, che intanto prosegue la sua battaglia per quel seggio assenato che rincorre dal 2018, ma senza scomporsi più di tanto. In fondo al patron piace far parlare di sé, proponendo anche soluzioni ardite. La domanda non se l'è posta la Rega B, che ha sospitato fino a maggio la serenitana e che anzi è stata ben lieta di vedere uscire dalla sua giurisdizione un altro club, tutt'altro che amico del presidente in carica. La domanda ha cominciato a porsene in maniera sempre più preoccupata. Il presidente della FGC, che si è appellato ai regolamenti in vigore ed ha pure dato un ultimatum, poi prorogato, ma che sa bene come dietro l'angolo in caso di esclusione alla Serie A della serenitana sia già pronta a una bella causa per risarcimento d'anni. Giusto per non smentire la sua fama di uomo dedito alle battaglie, ieri Claudio Lotito avrebbe pure capeggiato la sommossa dei club di ascontenti e dell'attuale governance troppo appiattita per non dire asservita alla FGC. Un modo come un altro per agitare la vigilia del nuovo viaggio a Londra per la gara del nazionale a Gravina, che domani dovrà affrontare in Consiglio federale la delicata questione della serenitana, club sano economicamente, ma con un problema che ora pure quelli che dormivano alla stazione hanno ammesso di conoscere. Ora che tutti sono consapevoli del problema, però, bisognerebbe trovare una soluzione e su questo ci sono spaccature politiche e regolamentari. E sullo sfondo resta l'unica via che, se imboccata, sbloccherebbe l'ingorgo, ma che Lotito non ha voluto prendere ancora in considerazione cedere la serenitana e far ripartire quel carico fermo alla stazione.